Spingi, spingi, sto spingendo, spingi, 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 covolo, sei sempre più un nabbo, mamma mia, ma come nabbo, ma non vedi che sto spingendo due idra, zocchiamo da una vita, sei sempre più un nabbo, forza, si, guarda, ora mi impegno, si, bravissimo, si, bentornati, bentornati ragazzi su Roblox, nel gioco più bello del modo, vuoi fare a botte, cosa mi spingi? Ma io sono più grande di te quasi, eh, non è rotto, lo guarda, sono più alto io, sì, ma tu sei il doppio e siamo altri uguali, ma chi sta parlando, chi sta parlando, un moscerino forse, ma che buffone, siamo ancora qui su Roblox e voi l'avete già lasciato un mi piace, io spero proprio di sì, perché oggi diventeremo super potenti, io sfioro i 10.000, Kenda, quanto? I 10.000, quanto? Sono a 9.57k, non è possibile, io sono a 5.6, il doppio di me, basta, mi sono stancato, sposto tutto, E sei in due Select, sposto tutto, eh, guarda, due Select, vai tuleglar, ma non ce la fai pure, ma non ce la fai fare duelei影, vai alle ro陳 voce perché dai, ti stai, ti viene un ernia, e ti viene l'ultima faccia fatica, la fatica li spingi. Ma che fatica, ma che fatica, non sento nulla, beh, stai un po' faticando, dai, dile verità Guarda quello lì che ci sta guardando, starà di sedu guarda questi, quattro sono grossi Oh mio dio Attenzione Oh sai cosa Mentre tu eri mia Vuoi sapere cosa ho trovato di super hyper mega raro Aspetta che devo rimettere il volume Dimmi vai Guarda ho trovato il pet più raro Guarda il ragnetto di diamante Ma non è vero anch'io ce l'ho Ma tu hai giocato senza di me Io ce l'ho di diamante però Ha giocato senza di me questo qui Dove ho trovato i pet nuovi Tra l'altro l'ho trovato al primo colpo Ma vabbè io non ho parole Allora guarda ho un'idea Mio piccolo amico Non mi chiamare piccolo amico Sono 5500 di forza non sono così piccolo Andiamo di là perché i fan mi hanno detto Come spostare quel robot gigante Quale robot gigante? Sali nel carrellino dove sei? Arriva aspetta Entra sto nabbo se no E vabbè fallo entrare dai Ma dove cavolo sei andato? Sto spingendo il robottino Ah sei di qua allora Io sono già dentro Arrivo 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 Mamma mia Adesso pensa di essere forte sto qui Vediamo mi puoi far entrare? Vediamo 3 2 1 Attenzione Eccomi vai Entra Ok sono dentro Sai spingerlo come si spinge Mi hanno spiegato che devo spingerlo Non devo tirarlo Ah in avanti Vediamo Non è possibile Siiii, grandi, mamma mia, i fan sono troppo grandi guarda Ok, fammi entrare ora Un attimo moscerino i grandi stanno lavorando Si è, si è, difficile Un attimo, ce la sto facendo, ce la sto facendo Ma quanto è pesante che ancora sei arrivato là Uomo pizza, dammi un attimo Perché è pizza? Dai, che voglio entrare E' un attimo, cavolo Fai solo le gnornie Dai, vai, ci sono quasi Oh ce la fai? Io penso fossi forte Io sono fortissimo Guarda sei dentro Insomma in realtà io sono bloccato Aspetta aspetta oh cavolo Ci sei? No Ci sei oppure no? No Che cavolazzo aspetta sono fuori Bella faccia non mi fa entrare Aspetta riproviamo riproviamo Oh vieni 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 No No vieni 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 Aspetta Entri no entri no Entri no E ci sono Si siamo come si dice Che bella discoteca Balliamo Spostiamo la palla della discoteca Vai prova I pet Ce la faccio Ce la fai? Vediamo Non riesco a prenderla No vabbè guarda sono troppo forte Chi arriva prima Ma io ancora non posso entrare qua Riesco a spingere già la palla Adesso riesci a spingerla un parolore Guarda Mi hanno detto che conviene non andare dritto Ma andare a zig zag Ok Eh lo so che conviene andare a zig zag Ma io non riesco neanche così Quanto dà questa palla? Vediamo Quanto? Un milione? 830 mila E questo mi sa che per aprirlo bisogna Cosa bisogna fare? Disco disco voglio uscire dalla disco Come si apre questa palla? Kendall sai quanto serve di forza? Quanto? 20 mila Ma io sono solo 5000 io Guarda per seida questo Ma è arrivato il momento di allenarsi con le casse È arrivato il momento di inventare dei super saiyah Perché non posso prenderlo? Perché sei troppo debole non ci riesci No sono troppo grosso Aspetta Allora posso prendere la disco ball Costa 5 milioni Ho trovato la cassa Non è vero Ok common Disco ball Aspetta aspetta vediamo Vediamo la cassa da 160 mila Ho trovato la sedia Ho trovato la sedia Poi vediamo Disco ball Dobbiamo trovare quelli rari Sai quanto ci danno? Un sacco Ma poi se non sbaglio Se trovi Oh ho trovato la rara Non è vero Non è vero Non è vero Ma no 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 Dai Oh 200 mila Lo speaker 15 Guardami Non si possa No non ti voglio guardare Non ti voglio guardare La pallina di diamante Non ti voglio guardare Eh no devi però È devi Non ci posso credere Se sai quanto ho speso? Quanto? 60k E non ho trovato niente 60 milioni 60 milioni Non ho trovato niente Eh io ne ho spesi 30 milioni Guarda qua Sì vabbè è il solito fortunato Una pallina di diamante Oh sei il solito fortunato Però questo dà più Non si crede Se questo dà quasi come l'altro Quale? Ah no questo dà come quelli che ho già Allora aspetta Vendo tutte le sfere Però questo è uno nabbo Figurati quello là Sì infatti è nabbissimo Vendo tutte le sfere E ricerco il pet Non è possibile La sfere del drago? Non è possibile comunque Che te sei così fortunato Eh mi spiace Ma non è fortuna È bravura Allora aspetta Vendo questi Equipaggio questi No vabbè guarda questo 16 milioni Ma sai che mi hanno detto Ho letto nei commenti Bella faccia Ah tu sei leggere? Sì so leggere Ho letto nei commenti Che se trovi Quanti sono? 12? No aspetta Fai vedere 9 Se trovi 9 di quelli di diamante Puoi creare quello leggendario Sì 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 Lo sapevo Quello leggendario lo sapevi Non di diamante Quello leggendario Legendario? Sì che non esiste Che non si può vedere Mi prende in zero L'ho letto nei commenti Poi non so se è vero Ma secondo me Oh cavo Hanno detto 9 di diamanti Uguale un leggendario Ma secondo me Non è vero Io ci avevo provato Non è venuto niente Con 9 di diamanti O 9 normali? Ah di diamante? Eh 9 di quelli rari Ti danno il leggendario Sì bla 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 Io continuo a spostare le cose Ci proverò Anch'io Non ci posso credere Non riesco a spostare il carrellino Ma te sei tornato indietro vero? Eh purtroppo sì Di 2 tra l'altro Devo tornare indietro anche io Sai che la palla da discoteca Dà 200.000 in più di energia Ma un sacco ne dà infatti Comunque sia Io con questi robot Che ci sono di qua Se non riesco a spostarli Ah sì? Tipo ne prendo 3 Ma che dici? Ma hai 10.000 di forza Guarda vediamo Sì ma ne sposto pochi Tipo guarda Sei così nabbo? 3 di questi Non riesco a spostarli Col girasole Beh vorrà dire che sei proprio un nabbo Sai che cosa? Vengo a rompere le scatole Di là nei cavalieri No dai No 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 Ma fai i robot Tu che stai fare i robot No vengo di qua Guarda sono diventato Un orso massiccio Un orso massiccio? Io sono un russo ripper Che cos'è? Un russo ripper Io sono un russo Guarda Tu russi Cosa devo guardare? Eh guarda Tu sei scarso? Che mi sono incastrato Per me c'è Vabbè 2 idra questo Ma ti levi? Ma non sono due idra Due idra Due pikeman E tre su Vabbè Ecco perfetto Io lo spingo E lui senza fare niente Ma perché non ti togli? Ma se c'ero prima io Ma ti levi? Per favore Guarda che gli devo insegnare Ma sono il più forte della lobby o no? Vediamo No tu non sei il più forte Sì 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 Guarda Sei il più forte? Sei il più forte della lobby? No non è possibile Che smacco Che smacco Sono il più forte Guarda Guarda Ah ma ecco perché ero incastrato C'era sto tizio qua Tizio Tizio No vabbè ma che c'è troppa confusione No anche lui è forte quanto te Perché fa fatica? Eh perché è nabbo Ma com'è? Ha la tua stessa forza? No è nabbo te lo dico io Dai andiamo qua Vado a spostarsi infatti Ma ti levi? Oh Ma ti togli tu ma scusa Dobbiamo litigare Guarda che sono grosso pulivo eh Comunque è strano Non riesco a spostarne due Di quello in mezzo Ma riesco a spostarne uno grande come questo Guarda No a due ce la fai No 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 ti giuro Non riuscivo a spostarli Ti giuro Con due o tre Ti giuro che non riuscivo a spostarli Beh vorrà dire che sei veramente un nabbo Io che sono il più Io che sono il più forte dei forti Non riesco a spostarlo Ma se tu sei il più forte della lobby Vuol dire che di là Oltre la discoteca Non c'è nessuno Non c'è nessuno Perché se tu non riesci a spostare la discoteca Vuol dire che non c'è nessuno più forte di te Eh infatti quindi sono Dillo 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 Sei Un Più forte Pi d'occhio Ma come è che i d'occhio Oh guarda cosa posso spostare Un nabbo Il disco floor Non ce la faccio Oh il pavimento No non ci credo Sposti il pavimento No ma va non ce la faccio Prendo una disco ball Disco ball Sei troppo nabbo Ma secondo te Sì la palla ce la fai perché rotola Eh ma conviene spostare le altre cose Oppure la disco ball che mi dà 830.000 No devi spostare qua Lì e sei troppo Ancora sei troppo nabbo Ma come devi spostare là Devi spostare da qua Dai robottini Ma i robot Non so perché ma non ce la faccio Non ce la faccio te lo giuro Eh perché vuol dire che devi essere ancora più forte Allora guarda Non sei ancora degno Non sei degno Facciamo una prova Guarda ne prendo tre di questi Prendi tre di questi No due due Prendi ne due Ma come no Di quali Ah di quelli sì tre Quelli ce la fai a spingerli Sì ma certo Ma vedi che non me si spostano Ma sì che ce la fai guarda Ma guarda solo due Guarda guarda Ma perché così Ma solo due Eh perché sono pesantissimi Ma ho capito Ma la palla da discoteca Riesco a spostare Eh ma la palla rotola Questi no Non si crede Questi sono in piedi Vedi Ma guarda questi maledetti Non ci posso credere Dai Vedi che ci riesci Eh grazie al cavolo Se lo fai cadere ce la fai È solo uno Vediamo quanto mi da Ah però Guarda anche io ce la faccio Sì ma Guarda 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 Eh ma ho capito Ne sposto uno di quello Ma io riesco a spostare spider bot Cioè che senso ha E allora vedi che ci dobbiamo allenare Di là ancora Indietro Guarda di là Secondo me riesci a spostare anche questo Te eh Provaci No non ce la faccio Sì 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 Bella faccia Io ce ho 5.000 Tu hai 10.000 Bella faccia Bella faccia Provaci fidati Se ce la fai spostare quelli Fidati Non ce la faccio Tu provo Io confido in te Non credo in te stesso Guarda ci provo eh Dai che ce la fai Vediamo Eh hai visto come si sposta Si sposta Mi stanno spezzando le gambe Hai visto che roba Eh mi stava venendo Un'ernia Un'ernia infatti Questo ce la faccio Oh lui ce la faccio Questo invece Lui se rotola ci riesco Vedi Guarda ma guarda quanto pesano Incredibile Cioè lo sposti più di me No mi porti indietro Mi porti indietro Arrivederci Dai rotola Stupito robot Oh io comunque voglio vedere Cosa c'è dopo La discoteca Secondo te cosa c'è Non ne ho idea Però il muro è chiuso Non possiamo neanche sbirciare Alleniamoci ancora di più Te lo dico io Sì senti sai cosa Io mi alleno qua Ve la faccio Non ce la faccio Io mi alleno di là dai cavalieri Non tornare No no Sì io mi alleno dai cavalieri Porca miseria però Uffa Oh no ma è pieno di pidocchi qua È pieno di moscerini Ma chi? E tu Ah Ti levi moscerino Guarda guarda Due idra E due cavalieri Moscerino ti puoi levare per favore Ma se non sei ancora arrivato Ma smettila Per Messico Per Messico Non fare lo sbruffone Per Messico e per Messina Per Messico e per Messina Da che parte? Eh a destra Tutto dritto Mamma mia ma me conviene allenarmi qua Altro che di là Kendall Eh qua prendi molto di più vero? Secondo me devi tornare dalle verdure te Ma che dici? Io ce la faccio guarda Un milione Un milione e cinque Kendall non ce la fai Devi tornare dalle verdure Fidati Tu sei soltanto invidioso Che i miei pezzi sono più forti dei tuoi Devi tornare a fare il conto di lui Perché tu non hai la palla di diamante? Adesso la vado a prendere Vai vai Vediamo se la trovo Sì 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 vai Mi alleno un altro po' E poi la prendo te lo giuro No vai vai prova Vediamo se la trovi Ti ricordo che io Ho un altro slot In più di te Per i pet Perché sei uno scioppone? No io ho tre pet Ah eh non hai pet te Come mai? Perché sei uno scioppone? Come mai non hai pet? Non ti sento? Scioppone Non ti sento? Scioppone Dai guarda come pompo i muscoli In questo episodio Devo arrivare almeno a 10k Almeno almeno Non si arriverò mai nella vita 9.66 9.67 Sai cosa voglio fare io? Cosa vuoi fare da grande? Voglio Stai con No 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 da grande Vogliamo testare se la leggenda del leggendario è vera? Cos'è la leggenda del leggendario? Eh il pet leggendario Che se ne trovi 9 9 di diamante e li unisci diventano leggendari No vediamo se è vero Torniamo indietro in quelli che costano poco Ok E ne troviamo tanti Secondo me non esiste Guarda Secondo me è un troll Secondo me sì Secondo me sì Perché i fan non ti trollano mai Ok arriva indietro Allora guarda Questo qua Torni indietro al primissimo Primissimo? Oh vabbè Sì Oh ecco Eh così costano poco Quanto siamo grandi? Oh mio dio Guarda Guarda quanto siamo grandi No vabbè La leggenda allora Io posso tra i nostri muri Allora Guarda Facciamo così Prendiamo questi pet Fino a quando non troviamo 9 scopettini Ok Sto prendendo eh Quanto costa 25 Su vai Aspetta costano così poco che non riesco neanche a comprare Oh ti levi o ti levi? Eh ti togli tu o ti togli tu? Ti togli tu o ti togli La carta igienica Ti ho trovato Bella faccia Ti levi? Ti puoi levare? Sai che Ah vedi basta Oh ma se non ti sposti però Allora rubber Ok Raro Quindi dobbiamo trovarne così tanti? Devi trovarne 9 9 di quelli rari Se funziona Bella faccia Se funziona Otteniamo quello leggendario Se funziona mi dai una pizza Ma col cavolo Me la mangio una pizza Sai da quanto tempo non mangio una pizza? Guarda quanti me ne sto comprando Attenti io me ne vado di là eh Visto che sei uno spilaorcio Ma non vuoi comprare Oh raro Oh raro Ma non vuoi comprare i leggendari Per vedere se esce il leggendario? Sì 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 Sto comprando questo infatti Però dall'altro lato Perché tu mi blocchi Io sono troppo zizio Ok vediamo quanti ne ho Devi averne 9 Vediamo quanti ne ho 9 di diamante Ho rotto Roblox Aspetta Oh mio dio me ne sta comprando un sacco Ma perché siamo troppo grandi Non riesco neanche a passarci Ok allora vediamo Kendall Se le leggende sono vere Funziona 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 Li unisco eh 3 Eh sì 2 1 Non è vero Cosa? Non è vero funzionava Aveva una ragione Aveva una ragione Cosa è diventato? Cosa è diventato? Un toilet paper Ok vabbè Un gabinetto Sì vabbè Ma leggendario c'è scritto leggendario? Sì sì è viola È diventato un pet leggendario Ragazzi avevate ragione Non ci posso credere Ma se non ci sono i fan Kendall Infatti noi non scopriremo mai queste cose Allora perché questo comunque È un abbetto Vabbè è un abbetto per adesso Che abbiamo dei livelli incredibili Ma se noi quindi li sblocchiamo Sempre più avanti E li sblocchiamo leggendari Quanto cavolo ci danno? Tantissimo Tantissimo Sì ma costerebbero troppo Veramente Allora ragazzi Se come sempre raggiungiamo I 20.000 mi piace In un prossimo video Tiro una scioppata Che faccio scioppare anche Kendall ve lo giuro Faccio scioppare anche Kendall Da noi è tutto E ci vediamo in un prossimo video Muscoloso Ciao 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 Grazie a tutti.